Ci sono tante cattive pratiche in questa città dove le cose temporanee invece poi sono per sempre. In questo caso invece abbiamo dimostrato che la temporaneità era reale e che anzi il modo poi per continuare a garantire questo servizio alla cittadinanza di Ponticelli doveva passare attraverso dei correttivi. Riapre il parcheggio di via Argine a Ponticelli dopo i tre mesi di lavori programmati che sono serviti per la messa a punto dell'edificio e per il recupero del terrazzo superiore fino ad oggi mai utilizzato. Grazie soprattutto alle tante cittadine e cittadini di Ponticelli che hanno avuto fiducia nelle istituzioni perché le istituzioni siamo noi e che insieme hanno messo in campo un lavoro partecipato di lavoro continuo e di confronto grazie al quale oggi possiamo dire che l'impegno è stato mantenuto e che la struttura torna più bella e fruibile per il territorio. Con i suoi 3.000 metri quadri di superficie la struttura potrà accogliere 160 automobili e funzionerà come parcheggio di interscambio col capolinea degli autobus. Abbiamo mantenuto una promessa data come ha sottolineato più volte anche l'assessore Pente Clemente, noi ci eravamo impegnati per restituire un parcheggio funzionale e funzionante alla cittadinanza cosa che è stata fatta nei tempi che avevamo concordato. Un parcheggio nuovo, un parcheggio anche con delle tariffe, anche quelle concordate con tutti quanti i cittadini, quindi anche un modello per ragionare insieme. Un impegno che avevamo preso, mantenuto insieme ai cittadini, un documento che ci hanno consegnato, hanno scritto alla fine che insieme si vince. E qua è accaduto proprio questo, un comitato civico, i cittadini di Ponticelli, l'amministrazione comunale, abbiamo addirittura migliorato perché prima era sì un parcheggio ma gestito un po' così, oggi invece con ANM, con l'amministrazione comunale e con i cittadini si sono raddoppiati i posti, si va a quasi 170 posti, organizzato bene, preciso, quindi un presidio di legalità, un parcheggio e un metodo per lavorare sempre meglio insieme tra cittadini e amministrazione comunale. Dotato di un nuovo impianto antincendio e di videosorveglianza, il parcheggio sarà presidiato da personale dell'ANM. Ci eravamo presi l'impegno con l'amministrazione comunale di svolgere queste attività in un lasso di tempo ridotto, abbiamo mantenuto l'impegno, questo ha dimostrazione che anche a Napoli le opere pubbliche possono avere un inizio e una fine ben determinata e oltretutto da un'esigenza dell'amministrazione di ordine pubblico, quello del deposito giudiziario, ne è nata un'opportunità, quella di restituire un parcheggio più funzionale con strutture e tecnologie all'avanguardia e ampliato perché all'epoca non fu consegnato nella sua piena disponibilità, oggi invece è un parcheggio nuovo, moderno. Il parcheggio di via Argine sarà aperto dalle 6 alle 21 con una tariffa massima di 3 euro per l'intera giornata e possibilità di abbonamento. Tutte le informazioni su www.anm.it